Gli appuntamenti con le riunioni di Fed e BCE di inizio febbraio si avvicina Cosa fare sui mercati? Comprare o vendere? Ce lo dicono gli esperti di House of Trading Oro long ci sono ottime probabilità di andare ad attaccare l'ultima resistenza dell'oro questa settimana prima di andare non solo ai 2000 dollari ma oltre questo livello quindi nuovi massimi storici per l'oro quest'anno mi aspetto grandi valori sull'oro ingresso 1922 dollari è un punto in cui sono fatta un'accumulazione questa settimana lo stop va sotto i 1900, area 1897 un ottimo livello di copertura perché al di sotto potrebbe accelerare il ribasso il target è 1969 potremo raggiungerlo entro pochi giorni l'oro è molto resiliente in questo momento anche oggi nella sessione di oggi è andato ha cercato di effettuare un crollo e ha effettuato un'inversione AV continuando a spingere al rialzo quindi ritengo sia un'operazione fattibile magari i tempi sono un po' stretti ma l'oro quando spinge può offrire delle ottime potenzialità voglio solo ricordare una cosa mi interessa molto perché anch'io lo vedo alto volevo sapere se era solo una visione grafica la tua o anche c'è qualche notizia di ordine fondamentale qualche ok qualche ragione di ordine fondamentale ma guarda in realtà da un punto di vista fondamentale diciamo ci sono investitori stanno comprando anche alla luce del fatto che scommettono che la fed non farà altri due aumenti dei tassi e basta e poi comunque abbiamo le proprie proprio pratiche di quello che è successo l'anno scorso nonostante un dollaro così forte c'è nonostante una situazione complicata l'oro ha resistito non bene di più nonostante come ben sapete l'oro è soggetto alla grande speculazione del comex delle bullion bank traduzione banca centrale inglese è l'ente regolatore delle materie prime americano che più volte riceve numerose denunce ufficiali sulla manipolazione che viene effettuata col paper gold quindi la quotazione ufficiale è ma noto che questa forza di c'è questa quantità di diciamo di operazioni short che vengono fatte sono aumentate esponenzialmente negli ultimi due anni ma sull'oro non si riesce a fargli cambiare il trend io sull'oro sono lungo dal 2019 nel senso sono cioè proprio di lungo termine a parte di trading secondo me la situazione quest'anno è preparatoria a quello che è la mia visione ovvero i 3000 dollari entro un paio d'anni secondo me ce la possiamo fare quindi sull'oro sono fortemente rialzista secondo me deve rimane deve essere una componente importante del portafoglio dell'investitore ti è piaciuta questa strategia bene iscriviti al canale bmpp paribà attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dei trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17 30 ad house of trading